Lascio le file del centro-sinistra del PD per aderire a SEL, ma non per un discorso politico a livello di Pertosa come paese. La mia è una scelta per dire basta, per dire basta al sistema del Vallo di Diano. Vecchi politici che vogliono ritornare alla ribalta e per dire che noi siamo i giovani. Il mio è un passaggio per dire che ci vuole una rivoluzione, una rivoluzione concreta per dare un segno e dare un futuro a noi ai miei compagni, ai miei amici e ai cittadini di questo territorio. Cosa pensi del PD nel Vallo di Diano? Il PD nel Vallo di Diano esiste, c'è chi va a destra, chi da destra ritorna a sinistra e non c'è un leader. Abbiamo una figura regionale, abbiamo delle figure provinciali, ma io non mi sento rappresentato, io mi sento solo nel Vallo di Diano, essendo che il Vallo di Diano non ha delle basi. Il partito non ci garantisce qualcosa e quando noi cerchiamo di fare una battaglia è una battaglia soggettiva, non è una battaglia appoggiata dal partito.